La zona un po' più a sud delle falde del Vesuvio è rinomatissima, la zona di San Sebastiano, Cercola, fino a Pompei, compreso anche il lato di Somma Vesuviana e Ottaviana, è una zona proprio vocatissima per la produzione delle famose albicocche, albicocche che purtroppo negli ultimi anni sul mercato venivano poco richieste e noi anziché mandarle al macero per far sì che queste albicocche poi diventassero marmellata, li consegniamo in distilleria dove consegniamo le vinacce dell'uva per la grappa e la distilleria ci tira fuori questo distillato di albicocche che è una cosa unica, 42 gradi, che può essere bevuto a temperatura ambiente o addirittura d'estate su un gelato, servirne un goccio su un gelato è una delizia, è una cosa spettacolare.